carissimi benvenuti siamo alle 20 e 30 del 20 di febbraio 2021 nel pieno svolgimento del 23 turno di serie a è una giornata un po triste per il calcio italiano perché come sapete è venuto a mancare il grande difensore dell'inter e della nazionale mauro bellugia solo 71 anni vi rimando nel video per al video precedente per tutte le informazioni su bellugi sulla sua carriera e naturalmente ricordo della famosa partita con il borussia di monce glambat alla quale è rimasto legato il nome di bellugi che ha segnato perché a milano segnò con la maglia dell'inter al borussia l'unica rete della sua carriera unica rete ufficiale nella nella sua carriera di difensore di inter napoli bologna e pistoiese ma fu un gol molto importante c'è tutta la storia della famosa partita della lattina la famosa partita che finì 7 a 1 in germania di coppa dei campioni che poi fu annullata per la lattina di coca cola che colpì roberto boninsegna e quindi poi a milano vittoria dell'inter per 42 con il primo gol bellissimo di bellugi con un tiro dalla distanza di destro e poi nella ripetizione della gara di andata che alla fine è diventata la gara di ritorno a berlino 0 a 0 fra inter e borussia di monce glambat per quanto riguarda le altre partite mentre arriva dalla premier league notizia di una clamorosa sconfitta del liverpool che a un minuto dalla fine sta prendendo 2 a 0 contro l'everton c'ha problemi quest'anno il liverpool gli altri risultati di ieri ci dicono fiorentina spezia 3 a 0 cagliari torino 0 a 1 la lazio oggi pomeriggio abbattuto con grande fatica la samsoria per 1 a 0 la bella rete di luisa alberto un bel tiro di destro e poi dopo dunque c'è stato un genoa verona bellissimo 2 a 2 come avevo ampiamente previsto tra l'altro finora abbiamo azzeccato tutti i pronostici anche il pareggio fra genoa verona arrivato alla minuto 94 verona adesso due volte in vantaggio ma non ci sorprendiamo perché il verona abbiamo più volte detto che è una bellissima squadra quest'anno ma non solo quest'anno arriva anche la notizia importante della serie b con il monza che batte il chievo verona a verona 0 1 la rete è una rete pesante quella che porta la firma di mario balotelli uno dei più grandi talenti del calcio italiano degli ultimi 15 anni purtroppo si è un petto per strada ora è in serie b cercherà di riportare probabilmente ci riuscirà anche anche con i suoi gol il brianzuolo in serie a il mondo ormai seconda tre punti dall'empoli facendo un grande campionato nonostante qualche battuta d'arresto un po sorprendente ma mentre si preparano a scendere in campo tra pochi minuti sassuolo e bologna per dare vita un'altra partita molto interessante prevedo un pareggio anche qui devo dire che oggi pomeriggio avevo invitato i cari spettatori quelli che hanno la pazienza di seguirci a mandarmi anche dei commenti via mail la mia mail l'ho data a fernando bastoli chioccianaveggilio.it la prima email che mi è arrivata saluto giovanni da catanzaro se ricordo bene o da cosenza non mi vorrei sbagliare adesso che mi dici la prima cosa mi ha detto devi mettere ordine alle tue spalle perché in quella camera c'è un gran casino mi ha fatto veramente abbazzare dalle risate tra l'altro tu caro giovanni non vedi quello che c'è davanti tu vedi solo quello che c'è dietro purtroppo noi che seguiamo tante cose insieme tendiamo a essere un po a dir poco disordinati comunque farò tesoro anche del tuo suggerimento la partita di cui voglio parlare stasera è quella di lunedì però ci portiamo avanti col lavoro partita dall'esito più che scontato juventus crotone e chiaramente ti gioca la 20 45 è il posticipo di lunedì credo che l'analisi tecnica di juventus crotone sia completamente inutile troppa naturalmente con questo materiale umano fa quello che può adesso si stanno inventando delle modifiche è veramente un'impresa disperata quella del crotone che ha solo 12 punti sui 69 che ci sono stati a disposizione anzi 66 perché loro il cotone ha giocato 22 partite ancora chiaramente un'impresa impossibile mettono fuori simi centra avanti per puntare su un asce l'ex napoleon asce di carmine in attacco ex veronese di carmine messias giugno messia viene arretrato ma siamo veramente nel territorio delle missioni impossibile missioni impossibile quindi più che l'analisi tecnica vanno date le giuste informazioni per quanto riguarda questa partita dove nel frutto dove la vedremo la vedremo su skyport a serie a canale 202 del satellite o 473 e 483 del digitale terrestre su sky sport canale 25 del satellite i teleconisti saranno massimo ambrosini ex milan e nazionale e andrea marinozzi potete seguire ovviamente la partita anche in diretta radio su radio 1 cosa che io consiglio sempre perché il famoso c'era il famoso modo di dire di giulio calasso il giornalista romano giulio calasso guardate la radio il messaggio è quello di guardate la radio quindi io consiglio levare l'audio alla tv vi vedete la partita in tv e ascoltate l'audio radiofonico secondo me è molto più interessante fa anche cogliere forse più dettagli più sfumatore la juve la juve avrà dovrà fare a meno di rabbio arthur bonucci che lini quadrato e forse bel tanko bentancur quindi molte assenza soprattutto in difesa e ben venga che tutte queste assenze si vanno a verificare proprio con la partita più facile probabilmente nella stagione juventus crotone il crotone veramente non vedo proprio come possa tornare da torino con dei punti la juve si schiererà con questo 4 4 2 molto classico molto tradizionale di andrea pirlo magari ci aspettavamo un pirlo come allenatore un po più qualcosa di un po più elaborato invece sembra che il giovane allenatore bianconero dia più importanza alla qualità dei giocatori che ha lo schema 4 4 2 per pirlo si giocherà con buffon fra i pali la linea difensiva sarà formata da danilo da destra a sinistra danilo de miral de ligt e fra botta quindi un'area difensiva che sicuramente di secondo livello vedremo come si disimpegnerà sotto la guida dell'olandese de ligt in mediana da destra a sinistra sempre bernardeschi aaron ramsay mckenny federico chiesa le due punte saranno l'immarcescibile cristiano ronaldo che in una partita contro il crotone tutto sommato io fai pure risparmiato e culuseschi ronaldo invece uno dei quelli proprio che vuole giocare sempre mi ricorda un po totti che anche con una gamba rotta ricorderete totti quando ebbe il famosissimo infortunio ammarico infortunio nel 2006 contro l'empoli fu questo contrasto a centrocampo richard vanigli un nome mai dimenticato gravissimo infortunio per francesco totti che viene votato all'ospedale arriva senza arriva franco senza all'ospedale a confortare totti e totti la prima cosa che dice a presidere ma io domenica c'ho il derby devo andare a giocare al derby questi giocatori proprio che sono nati veramente con il pallone nel sangue proprio che hanno vissuto tutta la vita per questo ed è chiaro che poi un francesco totti ha sofferto il distacco da questo mondo al punto che gioca ancora nel calciotto come sapete a una squadra di calciotto è stato veramente gestito in modo pessimo nel finale di carriera francesco totti dal mese a spalletti o niente me lo leva dalla testa era un ragazzo che aveva voglia di giocare ancora una stagione a un ragazzo che si poteva gestire tranquillamente anche facendogli giocare gli ultimi 20 25 minuti magari neanche di tutte le partite ma è andata così purtroppo c'è stata secondo me una mancanza di rispetto ma è anche una mancanza di buon senso per tutto quello che francesco totti rappresentava per la città e rappresentava anche però per il merchandising di una società che nella quale il marchio totti praticamente continua ad identificarsi ancora oggi il crotone il crotone del del buon giovanni stroppa e quina un giocatore niente male stroppa frenato da infortuni ma un giocatore si pensava che avesse una carriera anche più importante 352 corda fra i pali ddc golemic e luperto è la linea difensiva i temi voi crotone come pensare di maniera in serie a con una linea difensiva con tutto rispetto di digi golemic e luperto poi la mediana e pereira messias dono messias janellato bulic e rispoli e le due punte sono onash e di carmine ma vi vado a rileggere meglio questa formazione perché io pure stento a capire come si possa giocare in serie a con corda fra i palli ddc golemic luperto per era messias zanellato bulic e rispoli onash di carmine che poi sei all'ultimo posto con soli 12 punti dopo questo passava al convento c'era la famosa battuta dell'allenatore della lazio lorenzo si chiamava che non ricordo male che chiedevano lumi su la formazione che aveva fatto lui dice ragazzi io questi tengo io questi tengo cioè questi sono giocatori che ciò e più non posso fare alla fine era una battuta che diceva una grande verità il crotone viene da quattro sconfitte consecutive peggior difeta del campionato e dicevamo appunto poc'anzi con 52 reti al passivo 23 i gol infatti non è neanche il peggior attacco dalla parte opposta alla juve alla miglior difesa con soli 19 gol in 21 gare perché 21 gare perché la juve deve recuperare la partita con il napoli quindi la juve a 21 gare la ventiduesima sarà questa con il crotone la ventidresa si recupera juventus napoli la famosa partita che saltò causa covid causa il maledettissimo covid inizialmente fu dato 3 a 0 a tavolino alla juventus poi il giudice sportivo ha optato per la ripetizione della partita quindi la juve oltre alla miglior difesa mi solo il quinto attacco fino a questo momento 41 reti pensate che l'inter ne ha già segnate 54 cristiano ronaldo deve ancora secondo me entrare in forma al cento per cento anche se è stato decisivo in alcune partite come ad esempio la partita di milano contro l'interna semifinale d'andata in coppa italia ma ripeto ronaldo un giocatore che chi gestisce così vuole sempre giocare stragiocare strafare strafegnare quindi continua a giocare va bene così evidentemente il suo fisico glielo permette quindi pronostico per quanto riguarda questa partita vi rileggo ancora la formazione della juve perché è una formazione un po' nuova un po' inedita buffon danilo de miral de ligue de frabotta il giovane frabotta bernardeschi ramsey mckenny chiesa e ronaldo con culuseschi non c'è veramente pronostico quindi nelle prime posizioni della classifica rimane quindi al momento l'inter con 50 punti milan 49 che si incontrano domani pomeriggio in un interessantissimo milan inter io ripeto prevedo il pareggio prevedo il 2 a 2 precisamente poi roma abbiamo detto 43 juventus 42 battendo crotone e il napoli nel recupero cosa possibile sarebbe addirittura 48 punti napoli e atalanta che si incontrano domani 40 mentre la lazio è andata battendo la sandoria 43 bisogna dire che anche la lazio dritta dritta sta disputando un ottimo campionato nonostante la sconfitta nell'ultimo turno 3 a 1 a milano con l'inter che chiaramente pesa molto su questa classifica che ha proiettato l'inter tra l'altro in testa al campionato tra un minuto in campo sassuolo bologna partita che promette tanto spettacolo e tanti gol il sassuolo di dezembe una squadra che gioca a viso aperto che intanto mi sta arrivando la notizia che il capolista nella liga spagnola atletico madrid ha clamorosamente perso in casa 0 2 con il levante una squadra di metà classifica grossa sorpresa per la squadra guidata in attacco da luis suarez anche questo è successo nella giornata di oggi poi domani 21 febbraio si comincia con parma udinese alle 12 e 30 alle 15 milan inter poi c'è atalanta napoli interessantissima alle 18 e alle 20 e 45 benevento roma quindi vi ricordo i miei pronostici personalissimi panno udinese 1 milan inter x atalanta napoli 1 benevento roma 2 vediamo se li indovinerò mentre sono molto sicuro di indovinare juventus crotone del 22 febbraio si comincia alle 20 e 45 vi ricordo dove vedere questa partita sky spot seria canale 202 del satellite o 473 o 483 del digitale terrestre sky sport venti scalare 25 del satellite naturalmente sulla app streaming sky go per gli abbonati e il radio su radio 1 poi naturalmente su internet ci sono tanti modi di seguire per esempio su diretta punto it non avete troppo tempo e quindi volete solo gli aggiornamenti sommari c'è tutto quello che mi serve compresi costituzioni formazioni aggiornamenti in tempo reale che arrivano naturalmente da tutti quanti i campionati per quanto riguarda i consigli votaravi la dritta che vi do è quella per gli scommettitori c'è betfair il bookmaker che per quanto riguarda la partita milan inter quota 3 70 la vittoria del milan che è tantissimo e 3 70 soprattutto il pareggio dato 1 95 la vittoria dell'inter quindi sicuramente la quota del pareggio ma anche quella della vittoria del milan perché in un derby tutto può succedere a mio parere vanno tenute la massima considerazione sono quote molto alte per quello che è un derby che una partita che chiaramente è aperta a tutti i risultati i derby sono partite che spesso sono partite spettacolari ma altrettanto spesso possono essere partite scialbe quando le due squadre fanno troppi ragionamenti perché voi capite che tutto sommato 50 l'inter 49 il milan ad un certo momento queste due squadre potrebbero anche scegliere di non farsi troppo male e di con un bel pareggiotto mantenere posizioni perché un punto è un qualcosa che si può recuperare con grande facilità tra l'altro il milan nel successivo turno deve andare a roma giocare una partita con la roma che è molto insidiosa comunque vedremo se fa che sarà questo che io prevedo cioè che nessuna squadra che un certo punto della partita potrebbe anche strizzare l'occhio per un pareggio prima della gara naturalmente minuto di raccoglimento per la scomparsa prematura di mauro bellugi del difensore della nazionale dell'inter mauro bellugi e innoviamo le condolianze alla famiglia una notizia che purtroppo arrivata proprio oggi e quindi buon campionato a tutti e vi ricordo iscrivetevi al canale se avete delle domande la fai potete scriverle nei commenti qua sotto su youtube nel mio canale oppure potete addirittura mandarmi un email come ha fatto giovanni che saluto a fernando bastoli chiocciola viagilio punto it saluti a tutti